Ciao Lidia, mi piace pensare che dietro quella luce ci sia tu che ci stai guardando, in questo bel parco con delle prove di coraggio, che rappresentano quasi metaforicamente quello che ogni giorno noi dobbiamo affrontare. L'anno scorso c'erano più bambini e soprattutto c'eri te, seduta su questa alta lena che ti dondolavi, spinta da Sergio. Quest'anno non ci sei, però voglio ricordarti così, mentre voli alto e ridi e mi chiedi i diritti di copyright del video. Sono stati giorni bellissimi quelli. L'unico vero modo per ricordarti è cercare di rivivere quella felicità, anche giorno per giorno, non solo qui. Quello era il gazebo dove avevamo la nostra postazione per le dirette con Eugenio e lì, più in là ci sono l'angolo tende dove abbiamo fatto qualche serata. lì è la cucina, da dove sono uscite le panzanelle di cui ti sei abbuffata. Ma soprattutto c'eravamo noi. Io, te, Sara, Sergio, la nostra Laura Bottici, Eugenio, Laura Troccoli, che ci divertivamo. Spero che in qualche modo ti stia divertendo anche tu dove sei ora. Magari su un'altalena tra le nuvole. Ci manchi tanto. Ci manchi tanto.